non mi farei più ragazzi dovete essere in toghi per me e non mi farei più ragazzi e si fa fare anche una casa e su un uomo tre anni prima tre anni prima quando vende robe do anche la casa fa pagare più con la casa ma che dice un uomo un uomo un uomo e di 20 euro usano i 10 ma con la casa e con i 15 se lo ho si troppa sto prendendo la voce io manco non c'è meno di niente si può fare ma io lo sapete effettivamente non ci sei da più male però ecco l'ultimente il lavoro non c'è più non c'è più ma come qualsiasi mi vorrei farla chi lo vede è un uomo tu ti avete fatto vedere alla fine non c'è più ci sono altre da parte?